salve a tutte e benvenuti e bentornati nel mio canale allora oggi andiamo a fare il video spacchettamento dei prodotti di binelli che mi sono arrivati in questi giorni io vi ho già spacchettato tutto e l'ho posizionato qui in modo tale che ve li riesco a mostrare più velocemente allora per prima cosa ci troviamo il top finish che è il top velato effetto matt che mi era praticamente finito e quindi ho chiesto all'azienda se poteva rinviarmelo eccolo qui come vedete a questa patina tipo biancolatte che è appunto la patina opaca che rilascia sull'unghia e questo qui è senza dispersione e ve lo consiglio perché realmente rimane opaco fino al refill poi ci troviamo lucky of 01 che è un colore semi permanente nero che anche questo è bellissimo già lo avevo e mi era finito perdonate un peletto già lo avevo e mira finito come stavo dicendo poiché lo utilizzo tantissimo uno perché risulta essere molto molto coprente già dal primo passaggio e due perché come sapete io e cattai li applico sempre su una base nera mi piace di più l'effetto che hanno e quindi il nero praticamente lo consumo tantissimo poi mi sono fatta inviare un magnete che non avevo il magnete appunto dell'azienda quello che avevo io mi sera rotto e non mi ricordo neanche dove l'ho acquistato vi dico la verità e poi ci sono due novità le fibre di vetro e i glitter effetto zucchero sono entrambi bellissimi come prodotti le fibre di vetro lo trovate almeno io ho due colorazioni il clear e il pink poi non vi so dire ragazzi se in realtà sul sito ci sono anche altre colorazioni rispetto a queste qui vi faccio vedere il clear che appunto è trasparente vi faccio vedere la densità di questo prodotto guardate è un prodotto media densità però sull'unghia non cola vedete non cola e quindi riuscite a lavorarlo molto molto bene poi cosa importante di questi costruttori che all'interno hanno le fibre di vetro le fibre di vetro sono molto molto importanti soprattutto per unghie un po più deboli perché la fibra di vetro tende comunque a rinforzare un po anche l'unghia meno forte quindi è una cosa ottima e questo qui è un costruttore monofasico quindi potete utilizzarlo per tutte e tre le fasi base costruttore e finish e adesso vi faccio vedere anche la colorazione del clear a cosa molto importante di questi costruttori ragazze che non bruciano assolutissimamente in lampada ed è una cosa ottima io non non sopporto i costruttori che praticamente rilasciano tantissimo calore in lampada quindi anche per questa cosa qui tendo ad utilizzare quasi sempre l'acrigel però questi qui nonostante siano di abbastanza densi in lampada non bruciano per niente quindi è una cosa ottima e appunto per questa cosa qui credo che li utilizzerò tantissimo soprattutto per ricreare gli allungamenti oppure incapposolare non so tipo le paillettes come ho fatto su quest'unghio in queste french con il clear allora parliamo del pink il pink ragazze guardate non è assolutamente un pink coprente non è un cover non è non ha quella colorazione pink bella carica che vi rilascia comunque quella patina rosata sull'unghia ma come potete vedere è comunque in trasparenza vedete ha leggermente questa patina rosata come vedete nel barattolino ma quando l'ho andata ad applicare sull'unghia è praticamente trasparente vi faccio vedere perché l'ho applicato qui sul mio mignolino aspettate che ve lo mostro guardate ho fatto l'allungamento e la copertura con questo pink e come vedete è praticamente trasparente perdonate i brillantini perché con queste polverine effetto zucchero sto praticamente piena di glitter dappertutto e questo è quanto riguarda i costruttori e ve lo ripeto ve li consiglio perché hanno all'interno le fibre di vetro che è una cosa molto molto importante poi passiamo alle polverine effetto zucchero sul sito le trovate di svariate colorazioni a me ne sono state inviate sei che adesso non mi ricordo i colori però ve li mostrerò uno ad uno e queste polverine glitter effetto zucchero possiamo utilizzarle in tre modi differenti se vi interessa un video specifico dedicato a queste polverine effetto zucchero scrivetemelo giù nei commenti così in questi giorni vi girerò anche il video vedete queste sono delle prove e li ho applicati in tre metodi differenti quindi se vi interessa conoscere come ho applicato queste polverine lasciatemelo scritto nei commenti ve le apro e ve le faccio vedere guardate questa una colorazione tipo marrone scuro e poi tutti tutte le colorazioni hanno all'interno dei micro glitter multicolor come vedete le polverine sono molto molto sottili questo tipo è un oro però non è quell'oro classico giallo giallo ma è un po più spinto questo qui infatti anche è simile ve li faccio vedere entrambi così vedete le differenze ecco vedete questo qui più tipo prosecco e questo qui è un oro un po meno giallo cosa molto molto buona perché io ad esempio quel loro giallo giallo non lo preferisco e vi stavo dicendo sono delle polverine super sottili quindi potete tranquillamente utilizzarle per realizzare l'effetto zucchero e potete anche utilizzarle per realizzare l'effetto sirina infatti vi ho detto se vi va il video ve lo giro questa qui pure molto bella perché nera con all'interno dei micro glitter multicolor quindi queste qui sono delle polverine olografiche questa qui è silver e l'ultima che è molto simile a questa adesso vi faccio vedere le differenze ecco vedete è di un marrone un poco poco più chiaro questa qui è tipo un marrone un po più scuro però tende un pochettino nel prugna nel violetto non so se riuscite a vedere comunque sono tutte molto molto belle poi come vi dicevo sul sito le trovate di tantissime colorazioni e c'è anche il kit non so il kit da quanti barattolini è composto però per chi magari vuole provarli tutti il kit è anche molto conveniente allora questo qui è il breve video spacchettamento di prodotti che mi sono stati inviati da binail se vi interessa c'è un codice sconto che vi lascio scritto qui giù e poi vi segno tutto giù in descrizione quindi mi raccomando dopo aver terminato il video non dimenticatevi di andare nelle info box per per il codice sconto e se volete vi linko anche tutti i prodotti diretti al sito se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video e ci vediamo presto per tantissimi altri video e ci vediamo presto e ci vediamo presto